Grazie Presidente, innanzitutto per dare anche una precisazione perché in questo lavoro per Roma Capitale è importante la centralità della Sala Sistema Roma e lì faremo confluire, arriveranno le immagini che potranno essere controllate di tutto questo lavoro che viene fatto dal tavolo di lavoro. Mi permetto di dire che il caffè lo offro io al consigliere Corsetti perché in realtà in quell'occasione quando c'è stato il bando regionale il PD romano anche con la consigliera Di Biase ha fatto dei comunicati dicendo che Roma Capitale aveva perso 2 milioni di euro messi dalla Regione Lazio sulla videosorveglianza. La verità dei fatti è che in realtà non è stato perso un euro, la Regione Lazio aveva messo 300 mila euro per Roma Capitale e per ogni progetto era un massimo di 50 mila euro per cui potevano vincere 6 municipi o eventualmente il progetto di Roma Capitale. Sul progetto di Roma Capitale c'è stato qualche problema ma non abbiamo perso un euro, 6 municipi hanno vinto nella graduatoria i 300 mila euro per cui c'è stata una grandissima attenzione. Lo dico anche perché questo è un tema che sinceramente e personalmente sto seguendo dall'inizio della consigliatura. È un tema molto importante, ci auguriamo che presto ci possano essere delle ulteriori novità sulla videosorveglianza perché per noi è assolutamente centrale lo spirito che lo condividiamo in pieno e ci stiamo lavorando assiduamente ed è molto probabile che nei prossimi mesi ci saranno degli atti specifici in tal senso, nonché un lavoro serio di aumento e di implementazione della videosorveglianza che potrà avvenire da qui a un anno perché è un lavoro molto grande e molto importante. Ribadisco pertanto l'importanza di questo tema per il Movimento 5 Stelle, però per tutte le ragioni che ho detto confermo il nostro voto di astenzione. Grazie.